Animis riparte Libro Sport dalla collaborazione tra diverse associazioni e la locale Proloco. Edizione 0 il fine settimana dal 18 al 19 maggio. Libro Sport 18-19 maggio, Animis che cosa ci aspettiamo? Allora ci aspettiamo la ripartenza di una manifestazione che esisteva già nel corso degli anni passati, interrotta per varie vicissitudini, quest'anno abbiamo deciso di ripartire con un'edizione 0, chiamiamola così, incentrandola su una serie di poche ma interessanti attività legate all'outdoor per promuovere quello che si può fare a Animis, lo sport che si può fare a Animis. Nello specifico ci saranno due attività, il sabato 18 ci sarà, saremo noi di Maglia Nera che assieme a S.D. Chikosis organizziamo una randone fuoristrada, quindi andremo in bicicletta a percorrere i sentieri della Bernadia Trailaria. E invece la domenica 19 ci sarà la Marcia Fiasp, la Vigna Longa, organizzata dall'Atletica Dolce Nord-Est che farà girare le persone sui sentieri di Fondovalle, diciamo, di Animis. Il 19 e il 18, scusami, meteo permettendo, potrebbero esserci anche delle attività con il parapendio. Speriamo di riuscire a fare anche quelle che sarebbero interessanti. Tutto questo per promuovere e curare il territorio che è la vostra mission principale e per questo, oltre all'attività che fate singolarmente di predisposizione Polizia dei Sentieri, avete anche organizzato un evento ad hoc? Certamente, abbiamo fatto il mese scorso una giornata, quasi una giornata intera nell'ambito di un'altra manifestazione del territorio di Nimis, una giornata dedicata a pulire uno dei sentieri che poi verranno percorsi durante questa randonnée che abbiamo chiamato Rando Bike. Abbiamo passato appunto quasi tutta la giornata a sistemare il sentiero che dal borgo di Useunt scende verso Tarcento per renderlo appunto fruibile e migliorarlo sotto l'aspetto della sicurezza. Quindi questo è giusto far parte della rete che avete creato e valorizzato in questi anni? Certamente, abbiamo una serie di sentieri che sono circa 12 più o meno che abbiamo ripristinato nel corso degli anni per renderli più sicuri. Erano già percorribili, però adesso lo sono in maniera più sicura e più divertente. Per partecipare, non tanto per domenica, meccanismo FIAS lo conosciamo, per sabato? Allora, per sabato la Rando Bike è iscritta al calendario AXI, quindi potranno partecipare tutti i tesserati AXI, FCI, quindi Federazione Ciclistica Italiana, e gli altri enti di promozione sportiva. Questo per assicurarci anche di avere una partecipazione di persone che sono già, che sono in possesso di un certificato medico agonistico e quindi siano assicurate. Però nel pomeriggio stiamo predisponendo la presenza di una guida di mountain bike che accompagnerà i non tesserati a fare lo stesso percorso. A voi la linea termina qui, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16.30 e alle 19.00. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.